Chissà se il 2022 sarà considerato un anno di accelerazione per la realizzazione di una moschea a Firenze, meglio aggiungere, di un luogo di preghiera dignitoso per la comunità islamica fiorentina che conta ormai circa 30.000 fedeli. Purtroppo l'accelerazione non è dovuta a una risoluzione civile, nel senso di civitas del problema, con il reperimento di un luogo già esistente o di un terreno su cui costruirne una dopo i vari tentativi falliti negli anni scorsi. I più clamorosi, lo ricordiamo, sono stati la vendita all'asta di un terreno a Firenze Sud, soffiato all'ultimo da un'offerta troppo alta per essere battuta, i fondi per una nuova moschea, è bene chiarirlo, non sono pubblici, e la moschea a Sesto Fiorentino, idea nata nel 2017 grazie alla collaborazione con la Curia, l'università, doveva nascere nei pressi del polo scientifico e il comune. Il 2022 si era aperto proprio con il naufragio di questo progetto. La comunità islamica rifiutò i fondi da un paese estero che aveva posto condizioni inaccettabili per la loro indipendenza e libertà, spiegò l'imam. L'accelerazione di quest'anno nell'affrontare con decisione e urgenza il problema della mancanza di una moschea a Firenze è stata data, dicevamo, non da una soluzione civica ma da un giudice. Dopo il ritardo nel pagamento di alcune mensilità di affitto del fondo di piazza De Cionpi, poi saldate, il proprietario ha chiesto lo sfratto fissato per il 16 dicembre, dopo un anno e mezzo dalla convalida giudiziaria e numerosi rinvii. Anche quel giorno niente da fare, era un venerdì, giorno di preghiera, non c'erano le condizioni di ordine pubblico per liberare gli spazi. Una nuova data per lo sfratto ancora non c'è una soluzione nemmeno. Se l'anno che si chiude sarà considerato un anno decisivo per la realizzazione della moschea fiorentina, potrà dirlo solo l'anno che verrà.